alcuni avvisi veloci. Allora, da lunedì le chiese si riaprono. Chi viene in chiesa a partecipare a una celebrazione, può essere la Santa Messa, può essere per esempio la celebrazione dell'esegui, può essere la recita del Santo Rosario, deve venire munito di mascherina e di guanti. Poi deve occupare i posti che sono previsti sulle panche, perché le chiese hanno un numero oltre il quale non si può andare. Per esempio qui a Sant'Andrea il numero massimo di persone consentite è 50. Ogni chiesa ha il suo calcolo che poi vi diremo. E così lunedì riprendono le sante messe feriali. La Santa Messa del lunedì alle ore 17 a Cocchio Purificazione. La Santa Messa di martedì alle 17 al Cerro. La Santa Messa di mercoledì alle ore 9 qui a Sant'Andrea, preceduta dalla recita del Santo Rosario alle 8 e mezzo. venerdì la Santa Messa viene celebrata ancora qui a Sant'Andrea alle ore 9. Questo giovedì 21 maggio è la festa dell'ascensione per noi ambrosiani. Proprio per questo noi faremo la Messa qui a Sant'Andrea alle ore 3. E tra l'altro è anche il terzo giovedì del mese quindi il gruppo di Padre Pio può ritornare a fare la sua preghiera, il suo rosario, la sua adorazione. E dopo il rosario, le tre rosario, poi la Santa Messa nella festa dell'ascensione. Ecco, prego tutti quelli che hanno la temperatura corporea superiore ai 37,5 di non venire in Chiesa. Così pure tutti coloro che hanno avuto contatti con persone positive al Covid-19. mercoledì prossimo la Chiesa è aperta, quindi chi vuole può venire qui a recitare il Santo Rosario. Comunque sia alla Messa alle 11 della domenica, sia il Santo Rosario in questi altri due mercoledì verranno sempre trasmessi in streaming sul canale YouTube. Grazie a tutti. Grazie a tutti.